è stata una partita un po particolare sono stati tanti errori portiere hanno parato tanto ci sono stati tanti errori sia in attacco che in difesa il derby è sempre il derby c'è c'è sempre chi qualche giocato un po strana o una partita sempre un po particolare però alla fine quello che conta oggi era vincere grazie a di abbiamo vinto abbiamo mostrato in campo di essere migliori di loro oggi niente se dobbiamo pensare alla prossima partita alla coppa poi in europa e speriamo che vada tutto bene purtroppo abbiamo perso e comunque il portiere è uno degli elementi della della squadra e a palla mano purtroppo bisogna fare anche gol ma purtroppo ci siamo bisognerebbe fare anche gol noi abbiamo queste difficoltà ultimamente cercheremo di far meglio le prossime partite si abbiamo tanti scontri diretti comunque a noi serve vincerle tutte insomma ad ogni modo cerchiamo di entrare in campo con la convinzione di poter fare sempre meglio e vincere qualche partita per adesso comunque siamo rimasti un po indietro nella classifica ma speriamo che le cose vadano bene